Riso di Belladonna di Gabriello Chiabrera Andremo oggi a leggere delle poesie barocche La volta scorsa abbiamo introdotto la lirica barocca Ecco, ci eravamo fermati proprio al classicismo Un classicista a suo malgrado Anche Gabriello Chiabrera vuole innovare come Marino Però il modo in cui lui rinnova la poesia E' un modo che ha comunque anche qualcosa Di quello che poi sarà il classicismo prevalente Vedremo nel secolo successivo Quindi nel settecento E' un'esperienza, quindi quella della poesia di Chiabrera Che nasce in chiave antimarinista Ma nei fatti non troppo distante Perché risente anch'essa del momento di crisi culturale Si afferma più che altro come gusto letterario La sperimentazione e la ricerca della novità Sono esigenze trasversali, dicevamo Che troviamo in tutti gli autori Non solo appunto in Marino Ma anche in Gabriello Chiabrera Di 17 anni più giovane di Marino Considerato l'iniziatore della linea lirica del classicismo Ecco, ci ricorderemo di queste cose Quando studieremo poi l'Arcadia Nel settecento Che è una corrente poetica Una scuola poetica tipicamente classicista Egli riprende in particolar modo Non Petrarca Quindi vuole senz'altro distinguersi da Petrarca Ma cerca di riprendere la letteratura greca Pindalo, Anacreonte Letti però attraverso la mediazione Dei lirici francesi della Playade In particolar modo Le odi e gli amori di Pierre de Ronsard Ecco quindi le canzoni Pindariche, diciamo così Di Chiabrera Che piacquero molto ai suoi contemporanei Però un pochettino troppo magninoquenti Grandiose Oggi invece a noi piacciono di più le canzonette Che erano poesie molto più leggerine Odicine e canzonette alla maniera di Anacreonte Di cui leggeremo appunto Un esempio In seguito Sostanzialmente Si ribellano i classicisti Chiabrera Prima di tutti Alla pretesa marinista Di ridurre tutto il patrimonio classico A mera enciclopedia Di temi poetabili La necessità di subordinare La propria libertà A regole di ordine superiore E poi comunque C'è una cosa fondamentale Che noi troveremo Nella poesia di Chiabrera Cioè la sua musicalità È una poesia che sembra fatta Per la musica Infatti i componimenti di Chiabrera Furono spesso musicati Questo è comunque anche un altro aspetto In comune con Marino Infatti vedremo In seguito Faremo anche una spiegazione Di una poesia di Marino Anch'essa musicata Da Monteverdi Comunque Non è una poesia banale Quella di Chiabrera È vero che ricerca La novità La novità E la meraviglia Ma per farlo Si affida Agli elementi metrici E formali Con un'abile manipolazione Di questi elementi Il poeta ottiene Una suggestione ipnotica La sua è una poesia Che non si rivolge Prevalentemente All'intelletto del lettore Non ne tiene destra L'attenzione Ma al contrario La ipnotizza Rivolgendosi Alla suggestione Dei sensi Soprattutto L'udito Come fa la musica Eh Come ho scritto Lì a lavagna Sto Sto leggendo Queste cose Dalle pagine 42-43 Del nostro libro La letteratura Punto it Di Langella Frare Eccetera Sì sì Prima però Di fare il reso Della bella donna Dobbiamo dire Che Per concludere Il nostro discorso Sulla lirica barocca Ricordate che abbiamo iniziato A spiegare La lirica barocca La volta scorsa Dobbiamo Chiudere Questo discorso Dicendo che Oltre a Chiabrera Ce n'era un altro Che scriveva poesie Di carattere Classiciste Un importante esponente Che fu Fulvio Testi Autore di poesie liriche Quindi Acclamato Come il terzo Grande poeta del secolo Insieme a Marino A Chiabrera E perfino Tommaso Campanella Il quale Cioè Magari noi lo ricordiamo Anche come filosofo Ma fu anche Poeta Oltre a essere Teologo Dalle teorie Controverse Scrisse infatti Le sue poesie Mentre si trovava In carcere A Napoli Lui era un frate Domenicano Che era Tra virgolette In odore Diciamo Di eresia Ecco Dicevamo Un poeta Molto particolare Tommaso Campanella Un po' A parte Rispetto Alle due correnti Che abbiamo studiato Quella del marinismo E quella del Classicismo Frate Calabrese Amo originale La potente concretezza E il ricorso A voci popolari Che fanno Della sua poesia Qualcosa di estremamente Originale Quindi La sua poesia È caratterizzata Dal fine etico E quasi addirittura Profetico In chiave religiosa Dall'autobiografismo Parla di se stesso E dal contenuto Filosofico Scopo della poesia Insomma Insegnare La verità Certi testi Poetici Di Campanella Sono abbastanza Difficili Da capire Ma sono Ma questa difficoltà È il prezzo Da pagare Per trovare Le parole Che siano adeguate Alle alte verità Che lui vuole esprimere Il desiderio Di novità Della poesia Di Di Campanella Si esprime Anche In nuove forme Beh Comunque Adesso vedremo Soprattutto Chiabrera E le sue Nuove forme Infatti Chiabrera Trasforma La canzone E la canzonetta Adesso vedremo Con una struttura Libera Rispetto invece Alla struttura Fissa Che aveva la canzone In precedenza Insomma Se noi L'anno prossimo Studieremo Ad esempio La canzone Lopardiana Se noi ci siamo Un po' Liberati Dallo schema Della canzone Medievale Diciamo Petralchesca Un pochettino Lo dobbiamo Anche a Gabriello Chiabrera Ad esempio Le strofe Della canzone Non sono più Tutte uguali Fra loro Come schema Emetrico E come lunghezza Della versi Sì Sì Puoi Sì Esatto Sì Sì Esatto E poi All'interno Di ogni strofa La lunghezza Dei versi E lo schema Delle rime Sono elementi Liberi E non più Obbligati E questa Un'innovazione Importante Dicevamo Perché prelude A quella che sarà La canzone Libera Leopardiana Dicevamo Dell'Ottocento E adesso È il momento Di leggere La canzonetta La poesia Di Gabriello Chiabrera Che appartiene Proprio Dicevamo A Ecco La canzonetta No A questo schema Un po' preso Dicevamo Da Anacreonte Ma in maniera Abbastanza libera Lo schema Della canzonetta E leggeremo Pertanto Una canzonetta Di otto strofe Di sei versi Ciascuna Con ottonari E quaternari Un ottonario Il primo Che rima Col primo quaternario Porporine e spine Poi Il secondo ottonario Aprite Che rima Con L'ultimo verso Della strofetta Che è un ottonario Anch'esso In mezzo Ci sono però Un terzo ottonario E il secondo Il secondo Quaternario Che rimano fra di loro Insomma Lo schema è A A B C C B Ecco Il componimento È tratto dagli scherzi E canzonette morali Di Gabriello Chiabrera Si inserisce Nel genere Del componimento E del complimento Galante Rivolto in questo caso A sorriso Della donna Paragonato Ad alcuni aspetti Della natura I prati fioriti L'acqua increspata Dal vento Considerato Evidentemente Superiore a tutto Superiore A tutti Questi elementi Della natura Niente di originale Direi Il contenuto La cosa Che a noi Interessa di più Invece È la forma E soprattutto La grazia musicale Vi ricordate Che abbiamo appena detto Che la poesia Di Chiabrera È fatta per la musica E lo vedremo Con questa poesia Appunto Musicale Riso di bella donna Benissimo Riso di bella donna Belle rose porporine Che traspine Sull'aurora Non aprite Ma ministra degli amori Bei tesori Di bei denti custodite Quindi Ci riferiamo Insomma Al riso Della donna Belle rose Porporine Rose rosse Che non aprite Tra spine Sull'aurora Insomma Non vi aprite Tra le spine Sul far del giorno È evidente Qua la metafora Sono le labbra Della donna Le rose porporine Che non si aprono Come si aprono Invece Appunto le rose Sul far del giorno Quando Quando spunta il sole Insomma E queste rose Non si aprono Tra le spine Ma Ministra degli amori Bei tesori Di bei denti custodite Ma Essendo Ministra dell'amore Strumento Mezzo Di innamoramento Racchiudono i denti I bei tesori Di bei denti Custodite Quindi Racchiudono Appunto Custodiscono Fra di loro Questo tesoro Di bei denti Belle rose rosse Le labbra Dell'amata Insomma Che sul far dell'aurora Non vi schiudete Tra le spine Ma come sacerdotesse Dell'amore Ministra dell'amore Custodite i bei tesori Dei vostri bei denti Dite Rose preziosi Amorose Dite Ond'è Che sia Maffiso Nel bel guardo Vivo ardente E voi Repente Vi sciogliete Un bel sorriso Dite Per quale motivo Se io contemplo Il bello sguardo Vivo ardente Voi d'improvviso Vi sciogliete In un bel sorriso Ecco Si rivolge appunto Sempre alle labbra Le labbra Della donna Sono Le rose preziose Amorose Come mai Ond'è Come mai Ond'è Che Se io Maffiso Insomma Se io Fisso Lo sguardo Appunto Nel bel guardo Vivo ardente Nel viso Bello Vivo ardente Voi Improvvisamente Disciogliete Un bel sorriso Voi Vi aprite Vi sciogliete Un bel sorriso E ciò Forse Per aita Di mia vita Che non regge Alle vostrire Lo fate forse Per soccorrere Alla mia vita Che non posso Sostenere La vostra collera Insomma Ciò lo fate Per aiutarmi Dal momento Che Non posso Portare Le vostre ire Insomma Non posso Portare La mia vita Di vedervi Arrabbiate Di vedere Arrabbiata La donna E quindi Di conseguenza Di vedere Arrabbiate Le labbra Della donna Stessa Oppure Perché voi Siete tutte liete Me mirando E su morire Oppure È per caso Perché Voi siete Liete Mentre io Muoio Ovviamente Muoio D'amore Quindi Il sorriso Della donna Può essere frutto Di pietà O anche frutto Di crudeltà E infatti In questi Tre versi Che abbiamo appena letto La donna Si presenta Quasi come crudele Quasi lieta Contenta Se io soffro D'amore Addirittura Se io muoio D'amore Belle rose O feritate O pietate Del si Far la cagionzia I vuol dire In nuovi modi I vostre lodi Ma ridete Tuttavia Belle rose Sia crudeltà Oppure sia pietà Ecco Infatti abbiamo visto O feritate O pietate E inchiasmo Nel senso che Feritate Era l'ultima cosa Che abbiamo visto Nella strofa precedente Mentre la pietate Per aita di mia vita Eccetera Era Quello che Era stato spiegato Prima Aita di mia vita E la pietate Mentre tutte liete Mimilando il sul morire E la feritate Insomma O perché siete Selvagge Quindi crudeli Oppure perché siete Pietose Beh Se questa è insomma La causa La cagione Del sifar Del vostro comportamento Del vostro modo di fare Io voglio comunque Cantare le vostre lodi In modi nuovi Ma intanto Continuate a ridere Ridete Tuttavia Senz'altro E quindi io non so Qual è il motivo Per cui Per cui voi Appunto State ridendo Non so se lo fate Per Crudeltà O per pietà Però voglio dirvi Continuate a ridere Continuate a Ridere Non a parlare A ridere Ridete Tuttavia Senz'altro Io voglio dire questo In novi modi Ecco Dobbiamo sottolineare L'insistenza sul motivo Della novità E qui infatti dice Novi modi La novità È una delle parole chiave Del barocco Del seicento Non solo nel campo poetico Ma lo vedremo Dalla settimana prossima Anche Soprattutto Se vogliamo Nel campo scientifico Se bel rio Se bella oretta Tra l'erbetta Sul mattino Moranderra Se di fiori Un praticello Si fa bello Noi diciamo Ride la terra Se c'è un bel ruscello Che è la mattina Oppure Una delicata brezza Vanno mormorando Qua e là Fra l'erba Se un prato Si abbellisce di fiori Noi diciamo Ride la terra Ecco Insomma Noi Se vediamo La natura Ecco dicevamo C'è un continuo Paragone Fra il riso Della donna amata E la natura Prevale infatti In questa poesia Lo stile Metaforico Se noi vediamo Osserviamo Osserviamo Un bel ruscello Oppure Un venticello Lauretta Che vanno mormorando Qua e là E mezzo all'erba Sul mattino Mormorando Erra Tra l'erbetta Se un prato Si fa bello Di fiori Noi diciamo Ride la terra Ecco Attenzione Ride la terra È una metafora La metafora È una figura Retorica Molto presente Nel seicento Però Gabriello Gabriello Chiabrera La usa In un modo Un pochettino Meno ostentato Meno ostinato Rispetto A Marino E ai marinisti Rispetto A gran parte Della poesia barocca Quella di Gabriello Chiabrera Si presenta a noi Come una poesia Un pochettino Meno Concettosa Quindi Meno ricca Di queste Metafore E figure Retoriche Di questo genere Quando avvien Con zeffiretto Per diletto Bagnipie Nell'onde chiare Si che l'acqua Sull'arena Scherzi appena Noi diciamo Che ride il mare Adesso quindi Tre strofe Quindi La quarta e ultima La terza e ultima Che abbiamo appena letto E la penultima Che sono riferite Alla natura E poi Alla fine L'ultima strofa Che chiude Che sta chiusa Abbastanza sorprendente Ritornando Alla bella Donna Quando avviene Quando capita Insomma Che Un Zeffiretto Un venticello Leggero Di primavera Ulteriormente Addolcito Già E' un vento Dolce Primaverile E' ulteriormente Addolcito Anche dal Diminutivo Zeffiretto Per diletto Quindi per piacere Insomma Tuffa il piede Nelle limpide Onde Bagni i piedi Nell'onde chiare Il vento Antropomorfizzato Addirittura Può bagnare il piede Nel senso Ovviamente Che il vento Soffia Leggermente Lievemente Sulle acque In modo tale Che l'acqua Sembra quasi Giocare Con la sabbia Sì che l'acqua In sull'arena Scherzi appena 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 Noi diciamo Che ride il mare In modo tale Che Che l'acqua Scherzi appena Sull'arena Cioè Che le onde Accarezzino appena La sabbia Non siano violente Noi diciamo Che ride il mare Abbiamo visto Ride la terra Ride il mare Ride il cielo No? Ecco Sì sì Infatti Però ripeto Tutto questo È collegato Con quanto poi Leggeremo Nell'ultima strofa Quando si arriverà Appunto a dire Ride il mondo Ecco Nel paragone Fra la natura E la donna Vince la donna Perché nel caso Del venticello Che ne so Ride il mare No? Abbiamo visto Non so Nel caso Del ruscelletto Eccetera Ride la terra Adesso vediamo Nella penultima strofa Che ride il cielo Se Giammar Se Giammai Tra Fiori Vermigli Se Tragigli Veste l'alba Un aureo Veste l'alba Un aureo velo E su ruote Di zaffiro Muove in giro Noi diciamo Che ride il cielo Che vuol dire? Se Qualche volta Talvolta Giammai Tra i Fiori Vermigli E Tragigli Il rosso E il bianco Insieme al giallo Sono i tipici Colori dell'alba In letteratura Giammai Dicevamo Qualche volta L'alba Veste Indossa Un aureo velo E muove in giro Quindi si sposta Su rote di zaffiro Cioè se ne va Per il cielo Lo zaffiro È una pietra preziosa Di colore azzurro Noi diciamo Che ride il cielo Ecco le metafore Che chiudono Tutte quante Queste strofe Poi però Nella strofa finale Bene Ver Con un senso Abbastanza Avversativo Invece No Quando Quando Giocondo Ride il mondo Ride lo cieco Quando è gioioso Bene ver Ma non san poi Come vuoi Fare un riso grazioso Sì Volevi chiedere qualcosa Sì Giallo rosso L'altro colore Dell'alba Ah sì L'altro colore dell'alba E il bianco Bene ver È proprio vero Quando è gioioso Il mondo ride Quando è allegro Il cielo ride Però poi loro Non sanno ridere In modo pieno di grazia Come sapete fare voi Ma non san poi Come vuoi Fare un riso grazioso Ecco Dobbiamo sottolineare Quindi questa Quest'ultima parte Della Della poesia Perché Sintetizza proprio La bellezza straordinaria Della donna Perché Comunque Ride il mondo Ride il cielo Ride il mare Eccetera Ma nessuno Praticamente Sa ridere Con la Grazia Con una grazia simile A quella Della donna Abbiamo Sottolineato Per tanto Eh Della donna in generale Di quella che lui ama Quella che lui ama Sì 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 Di quella Che lui ama Riso di una donna bella La donna deve essere bella Ecco Ecco Molto importante La ripetizione La parola bella È una parola Che ritorna Tantissime volte La parola riso Nuovo Eccetera Ci sono anche ripetizioni Di strutture sintattiche Come dite dite Versi 7 e 9 Bene ver Bene ver Appunto In quest'ultima strofa C'è l'anafora La vedete Vedete tutte le anafore Bene ver Ride ride Bene ver Anafora in chiasmo Tutti questi Come dire Tutti questi Sì Bene ver Ride ride Bene ver È un'anafora Perché è una ripetizione Di parole All'inizio Dei versi È in chiasmo Perché bene ver Si trovano Come termini estremi E ride E ride Come termini medi Tutti questi procedimenti Servono a creare Quel ritmo Incantatorio Musicale Che è l'effetto A cui tende La poesia di Chiabrera Almeno La poesia Delle canzonette È un'anafora Che è un'anafora Che è un'anafora